Rossana, NA8, intanto sono partite queste atlete, benissimo! Ora la partenza dei 50 metri piani, ecco partite! Si vede la loro spinta per più potenza. Veloce, competenze, danno il massimo, partite! Benissimo! Ecco che vediamo un po' l'espressione della potenza e agilità. Bravissime! La bambina è stata da male, via! Partenza, accelerazione, mantenendo velocità, sprint finale! Pronti? Partite! Via! Bravissime! Prit finale! Bene! Pronti? Sono partite! Bene! Forza! Allungare! Via! Benissimo! Bravi! Forza! Benissimo! Partite! Massimo espressione della velocità! Bene! Bene! Pronti? Partite! Via! Benissimo! Espressione della velocità! Bene! Pronti? Vinto! Partite! Benissimo! Forza! Via! Bene!